Lei è un po' di luce, se ne sa se chi ha, come dice Fabio, se non chi ha il buio, se ne sa parlare di elettro, se è il buio. Cosa fai a fare? Cosa faccio Fabio? Deve inserire la persona su di un sesto? Mi ha detto da parlare un messaggio anche a te, che è l'ultimo, che serve. Vabbè, no, no, per carità, per esempio, tu sei l'unico delegato, per carità, per lì mi troppo, perché saranno bene. Ti spiego, perché praticamente volevo fare una canzone su cui serve già tutto, un testo, non trovo la musica. Vabbè, sono venuto qua, proviamo, chitarista, scusa, prende. Io non ho mai, lui c'ha delle idee, ma non so se... Fammi sentire una di queste idee. Ma una roba estiva, una roba... Insomma, soltanto. Sì. Sì, sì, eh, sì. Però diamoci un line un po' più tranquillo, un po' di brio. Bello. Sì, bello. Sì, è molto bello. E' un'olumenta. Sì, questo gittarrista che avete preso la canzone, non c'era. Vabbè, sì. Un altro. Cioè, a me non lo do. Cioè, un... Tarlino. Vabbè, vado via. Vabbè, vabbè, vabbè. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.